numero 5 costume boxer realizzato in poliestere al 100% vita elastica con culisse tasche profilate in vita e tasca con velcro dietro fodera interna in rete disponibile in diversi colori e taglie ottimo articolo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 4 costume uomo calvin klein disponibile nel colore nero taglia l ottima vestibilità asciugatura rapida comfort assicurato lavabile in lavatrice a basse temperature trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 costume uomo con banda elastica in vita prodotto originale calvin klein con tasca e chiusura in velcro dietro chiusura con culisse lavabile in lavatrice dotato di fodera interna in rete logo stampato sulla gamba sinistra il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 2 costume da bagno uomo colore nero taglia l si tratta di un prodotto originale e autentico calvin klein questo costume è stato prodotto con materiali sostenibili lavabile in lavatrice a basse temperature realizzato in poliestere al 100 per cento il costume ha un elastico in vita con culisse acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 1 boxer costume uomo mare o piscina logo calvin klein ripetuto su tutto il costume realizzato in poliestere al 100 per cento asciugatura rapida lavabile in lavatrice a basse temperature ottimo articolo trovi il link di questo articolo in descrizione